Ornella Piluso è ideatrice del Festival dei Depuratori e dell'Arte, che quest'anno torna a Milano dal 6 all'8 maggio. Tutto quello che si è creato in questi ultimissimi mesi diventerà un ecomuseo. Esattamente così, perché noi siamo arrivati nel depuratore di Milano-Noseto, che è un'eccellenza a livello internazionale. Abbiamo cominciato a sperimentare già da sei anni che cosa era, cosa potevamo fare, l'arte, che significato aveva dentro un depuratore e avendo naturalmente, lentamente, lavorato su questo concetto della depurazione, abbiamo inteso che l'arte ha lo stesso compito del depuratore. Depura la mente in questo caso. E quindi abbiamo iniziato a lavorare in tal senso, moltissimi sono stati gli interventi fatti in questi anni. Adesso abbiamo il terzo festival, perché il primo è stato fatto durante l'Expo di Milano, l'anno scorso abbiamo fatto il secondo e quest'anno il terzo. Però quest'anno apriamo anche una nostra galleria presso il depuratore di Milano-San Rocco.